Buongiorno amici, buongiorno amiche, Ferragosto eccoci qui con il panettone e perché solo Milano può festeggiare? No, anche noi veneti in occasione della festa della Maria Assunta festeggiamo con il panettone, il vostro gastronauta vi ha preparato da 15 anni ogni anno un panettone diverso quest'anno a lievitazione naturale, lievito madre ma con ingredienti eccezionali proprio per un panettone estivo, frutti della passione, frutti di bosco e l'albicocca grandissimi prodotti in un contesto unico, bene ma il panettone senza l'ausilio del vino non va da nessuna parte e ricordando Venezia con le malvasie eccolo qui l'originale la malvasia di Candia portata dai veneziani a Venezia in tutto il mondo, ancora oggi ci sono dei locali che si chiamano malvasie quindi è una malvasia particolare leggermente frizzante dolce che si abbina con il panettone bene sotto l'ombrellone in montagna cari amici della montagna gli amici del formaggio piave dei paesi di me vi saluto tutti ma anche noi che siamo a casa a lavorare tutti i lavoratori di Ferragosto con il panettone di Guarafabio il vostro gastronauta vi aspetta adesso al civico 48 e ora e ora buon Ferragosto a tutti il vostro gastronauta ciao